E vedo entrare da quella tenda l'oggetto del vostro desiderio Laura Imai Messina Buonasera a tutti, grazie di essere qui questa sera, non numerosi ma numerosissimi Sono molto contenta, ringrazio il circolo dei lettori e dei naudi per avermi voluto qui questa sera su questo palco con Laura perché è una persona che mi piace molto, prima di essere una scrittrice che adoro Io l'ho conosciuta fisicamente martedì sera, però adesso non so se sia la prima volta per voi che la incontrate dal vivo avrete anche voi quella sensazione che io appunto ho ricevuto l'altra sera questa scossa di energia, poesia è incredibile come tu riesca a mettere insieme tante cose energia, poesia, pacatezza, bellezza perché insomma guardate qua quanta bellezza questa sera Ecco, volevi mettermi in imbarazzo subito? No, ma assolutamente, anzi volevo proprio in realtà, visto che hai un pubblico che è un pubblico molto bello molto, volevo creare una connessione empatica con tutto questo tra l'altro noi abbiamo qui una cosa molto carina che mi piacerebbe che se ne parlasse prima dell'inizio ups, prima dell'inizio della presentazione perché riguarda anche voi Come probabilmente sanno le persone che sono già venute alle mie presentazioni in realtà a volte me lo dimentico, quindi non so in quale città me lo sono dimenticato ma faccio di solito girare un quaderno che poi è effettivamente il mio il mio regalo di ritorno, quando torno in in volo me li leggo nelle 16 e più ore di volo me lo guardo Questa volta volevo dare un taglio un pochino più tematico alle cose che appunto potete scrivere girerà con la penna, non perdete la penna perché se no poi vi tocca trovarla da voi e quindi è un riferimento al colore, quindi questo libro parla di colori ma non è un esame, quindi non dovete scrivere cose complicate o cose che faranno effetto anzi potete anche non scrivere neanche il vostro nome se lo desiderate ad esempio io ho cominciato, bisogna sempre cominciare ad esempio ho scritto che i miei colori, ma preferiti è diverso perché sono così tanti che poi preferirli si vuol dire escludere tutti gli altri però colori amati, ad esempio ho scritto il color nero cecità perché amo ciò che non vedo ma so esiste e poi il color marrone degli occhi di Sosche e giallo ginkgo delle foglie, del ginkgo biloba, dei capelli di Emilio e questi sono ad esempio i miei colori ma come poi vedrete in realtà non c'è il tempo di leggerlo perché se lo volete passare, se vi va di partecipare a questo gioco dovete passarlo è difficile però questo è quindi poche righe perché siete in tanti quindi chi vuole partecipare probabilmente insomma e aggiungo anche il fatto che Laura è una persona molto generosa perché appunto condivide queste cose con le persone che vengono ad ascoltarla questo non è un modo per metterti in imbarazzo ma è un attestato proprio di affetto è proprio bello per me quindi quasi egoistico direi cominciamo da qui con lei che riceve per primo quadri non sapremo mai chi ha scritto cosa è bellissimo anche questa cosa perché è una sedimentazione di impressioni e di cose che insomma una partecipazione enorme è una presentazione che può anche essere lasciata su carta oltre tenetevi pronti perché lo dico fin da subito alla fine ci sarà uno spazio per le domande e visto che comunque non voglio che Torino faccia delle figuracce mi aspetto delle domande alla fine non mi fate fare la solita la solita scena in cui c'è qualcuno che ha delle domande poi tanto lo so che ci sarà anche il firma copie quando ci sarà il firma copie poi qualcuno farà delle domande no nello spazio delle domande basta è una situazione molto conviviale una situazione molto calda per cui mi raccomando tenetevi pronte per le domande alla fine benissimo stasera siamo qui con un libro che si intitola Il Giappone a colori adesso lo metto qui è un libro oddio qua grosso è un libro grosso è un libro spesso è un libro pesante ha una carta molto bella ha un'immagine di copertina che è straordinaria ha uno spessore che non è soltanto quello dello spessore della carta ma è proprio lo spessore della saggistica perché qui siamo davanti a un saggio ma un saggio con delle accezioni poetiche con tutta una serie di incursioni sulla linguistica giapponese e anche devo dire la verità con una messa in relazione anche con la cultura italiana perché comunque ci sono tutta una serie di messe in relazioni è un lavoro grande un lavoro grande Laura che hai fatto nel corso di tanti anni è un lavoro non semplice un libro non semplice ma appunto quello che io ho trovato di particolarmente accogliente è di trovarmi in un libro non semplice quindi complesso ma estremamente fruibile in piccoli pezzi e questa cosa mi è piaciuta moltissimo mi ha accolto molto mi ha fatto sentire molto a casa a caso a casa scusatemi da quello che ho letto perché poi quando preparo le presentazioni mi documento è un libro che ha richiesto tanta preparazione è stato iniziato molti anni fa è stato un libro con un iter lunghissimo ma non soltanto per la complessità dell'argomento ma anche per una serie di questioni da quello che ho capito leggendo i tuoi post perché appunto ho letto tanto di questa cosa di questioni legate all'interazione con l'ambiente che ti circondava e ho letto sempre sui tuoi post visto che io sono una fan sono come voi anche una fan di Laura sono contentissima e una frase in cui dicevi credo di essere riuscita a scriverlo solo una volta accettato il fatto che non lo avrei mai finito che credo che sia appunto un fantastico inizio poeta che è successo con questo libro che è un libro straordinario fermati però sullo straordinario perché magari è un libro straordinario è un libro da tenere veramente vicino diciamo che più che altro è secondo me quel tipo di libro che ti dà l'idea almeno a me dà l'idea anche adesso che lo rileggo non lo ricordo e lo riscopro perché dimentico i libri che scrivo ed è inevitabile perché se voglio pensare ad altro se voglio scrivere altro ci vuole quello spazio e lo spazio è quello e ogni argomento effettivamente è potenzialmente l'inizio di una ricerca io lo immagino come come una sorta di piazza una piazza con infinite possibilità infiniti sbocchi infinite strade che iniziano appunto quindi potrebbero essere potrebbe andare verso la letteratura potrebbe essere un bianco che va verso l'osservazione del passaggio della luna potrebbe essere un nero marrone che invece ci porta ad osservare un campo arido il campo arido è tra l'altro un colore si chiama il suo stesso campo arido e quindi ecco quando dico quella frase secondo me è stata l'introduzione arriva sempre alla fine peraltro immagino che voi lo sappiate succede anche quando si scrivono le tesi le tesine dell'università anche le tesi di dottorato si scrive alla fine l'introduzione perché riunisce tutto è stato effettivamente un come dire la consapevolezza del fatto che grazie devo dire anche all'idea di limitare un colore io sono riuscita nel senso concentrarmi sul bianco sul grigio e sul nero io sono riuscita ad espanderlo se avessi dovuto mettere tutti già dire tutti per me vuol dire niente vuol dire nessuno mettere tutti i colori probabilmente si sarebbe come dire limitata la variazione che invece è proprio il fascino che è infinita nel senso che io ho fatto comunque una cernita se non altro nel mettere nel dare più spazio di righe se vuoi a un colore rispetto ad un altro però è veramente l'inizio di un viaggio ed è l'inizio di un viaggio che non può che non finire perché da un bianco si arriva un altro bianco e a seconda il colore ho imparato grazie a questi studi a percepirlo come qualcosa in movimento è come se ci fosse è qualcosa di immaginato non esiste parte l'immaginazione del colore prima ancora del colore stesso ed è effettivamente un qualcosa in movimento che va verso il rosso va verso l'indaco va verso il grigio è come se facesse un passo a seconda del passo che fai di quanti passi fa verso non so un grigio verso il nero ecco che lì in giapponese acquisisce un nuovo nome e già soltanto questo mi ha mi ha spinto a fare questa ricerca che effettivamente è stata complessa ma io ciò che vorrei che passasse è la meraviglia di questa ricerca e dei risultati ho sempre l'idea che se si riesce a comunicare io lo vedo proprio come una specie di ruolo che chi scrive ha cioè nel comunicare la meraviglia di qualcosa è come dire io ho fatto tutto il viaggio ti dico che ne vale la pena e se tu hai il senso della bellezza riesci anche a metterti in spalla un grosso e pesantissimo zaino e ad affrontare un lunghissimo sentiero mentre invece magari un sentiero più facile ma noioso che non ti dà quel tipo di promessa ecco che forse te lo risparmi e se te lo risparmi non lo introdotto ma non ti avvii in quella direzione senti Laura io lei ci siamo già viste martedì sera quindi un po' di cose gli avevo già chieste faccio vivo un po' di rendita di queste cose come ti sei preparata a questo viaggio anche perché appunto tu sei una studiosa sei una persona che si occupa di accademia sei una persona che si prepara come ti sei preparata per questo viaggio quindi in quello zaino prima di partire quali sono state le fonti che hai messo che hai consultato che magari a un certo punto hai anche abbandonato perché erano troppo come dire ingombranti rispetto poi alla percezione che hai avuto di alcune cose dove è stato il bagaglio che un po' ti eri preparata e cosa magari hai lasciato indietro anche perché appunto cioè è un lavoro è un lavoro notevole questo davvero al di là della bellezza della scrittura è un lavoro veramente notevole allora le fonti nel senso da dove prendi le cose che poi trasformerai e cambierai e fare diventare qualcos'altro questo in realtà avviene con tutto avviene anche con i romanzi non necessariamente con i saggi la sfida di questo libro era spiegare qualcosa che anche nei libri che ho consultato quindi nei libri sul colore che avevo consultato magari prendeva soltanto quattro righe sei righe e quindi è come se ti rimanesse la fame di sapere e a un certo punto ti sembra quasi così sfuggente che non vale la pena andare avanti nella ricerca e vedevo invece questi cataloghi ce ne sono alcuni effettivamente in lingue occidentali non so in inglese anche in italiano è uscito qualcosa però sono cataloghi che come dire restituiscono come dire danno il compito all'occhio di capire ecco il colore lo si capisce guardandolo e invece la sfida era il colore lo si capisce raccontandolo quindi la parola effettivamente la fascinazione non è nata dal colore visto perché il colore visto cioè è qualcosa veramente di impalpabile tu ti accorgi della differenza tra due rossi quando quei rossi sono affiancati si sono isolati e magari li vedi in due momenti diversi rosso così il bianco così il nero così il grigio sembra che assorba tutto sembra che la parola bianco vada proprio ad assorbire tutte le sfumature possibili invece attraverso le parole attraverso le storie si distinguono e quindi quando dico che questa manica del kimono da sposa io mi sono fermata quel giorno me lo ricordo ancora lo so sembra strano perché veramente per una persona che scrive fiction non immagina che ci sia per il fatto che la fiction per me non ha un senso negativo non è che bugia cioè ricrea una sensazione ma io ricordo nettamente il momento in cui allargai questa manica del kimono da sposa che poi è quello appunto della copertina delle vite nascoste dei colori e notai questa questo ventaglio notevolissimo di bianchi e allora il bianco non è una parola che poi non c'è il bianco non c'è il singolare non c'è il singolare è plurale quindi anche la lettura anche la ricerca che insomma sottostava poi a questa idea inizialmente nasce sempre come un'idea un libro in questo caso nel 2019 vero? sì? gli editor fanno sì con la testa dalla prima fila sì perché hanno atteso è un sì molto penato perché c'è stata un'attesa ho faticato a chiudere e soprattutto perché più leggevo e più dicevo doveva essere un libro piccolo ci eravamo detti ce lo siamo ripetuto poco fa guardando il libro doveva essere un libro piccolo ridete tutti un po' sotto i baffi ed avete ragione anche io ora rido doveva essere un libro piccolo e peraltro dice vabbè ci hai messi anche tutti i rossi tutti i verdi tutti no ma era proprio questo perché non bastava più leggevi più ti veniva voglia di comunicare come quando ti raccontano una cosa una barzelletta meravigliosa io lo dico sempre proprio questo senso della comunicazione ho messo metto male il microfono no 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 scusa no 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 tutto bene e la vuoi raccontare a tutti e quindi ho questa cosa che voglio raccontare a tutti credo di scrivere per questa motivazione perché raccontare effettivamente diventa un messaggio su whatsapp quindi ecco la la messaggiatrice seriale e invece facendolo con un libro ognuno si prende il suo tempo per scegliere effettivamente quando vuole leggere una cosa anziché un'altra quindi lavoro molto ampio però però leggendolo io stessa mi rendo conto che si sottrae la difficoltà il compito dello scrittore è proprio quello nel mio immaginario è proprio quello di sbucciare il frutto è come quando mio figlio mi dice voglio la mela non è che gli do tiè pigliate sta mela cioè comunque sto lì sbuccio il frutto lo taglio nel modo in cui lui vuole mangiarlo è sempre una mela sia che sia intera sia che sia tagliata sottile sia che sia spicchi però è quello il compito quindi leggere tanto sì c'è il grande lavoro ma devo dire la verità spero quasi che non passi questo cioè si dice oh guarda però che interessante deve vincere sempre ecco che meraviglia deve vincere allora il Giappone a colori è un libro corposo ma Laura ha iniziato a scrivere e ci ha lasciato tre macro aree che includono una serie di racconti poetici con delle incursioni sulla linguistica troverete tanti kanji ve lo dico già quindi questa cosa è della cosa bella di questo libro però le macro aree a cui tu hai dedicato il Giappone a colori sono il grigio il bianco e il nero come mai hai scelto di fermarti a soli questi tre colori che hanno reso effettivamente questo libro breve conciso e sintetico effettivamente come mai questa scelta? ma non è che mi sono fermata c'erano tutti gli altri in corso c'è il mio computer che non ho portato qui ma sembrava in senso è sempre lo stesso computer anzi è cambiato nel frattempo è schioppato due volte ma per un buon motivo è colpa del Giappone a colori secondo me sì con tutte le revisioni le cose ma sembra effettivamente uno di quei libri pieni di post-it con le cose tra l'altro anch'io ecco anche le piume di colomba le foglie sono quel tipo di lettrice lì perché poi lo devo rileggere per raccontarlo peraltro ma mi sono non mi sono fermata abbiamo deciso di selezionare alcuni colori perché nel senso avevo già studiato buona parte dei verdi mi ero concentrata moltissimo sul viola sui vari la viola la melanzana e poi quello che andava verso l'altro frutto insomma era un altro un altro viaggio però nel nero nel bianco e nel grigio io ho individuato appunto macro tematiche che sono proprio quelle della vita della nascita del dare la vita del come dire unirsi in matrimonio peraltro il nero era del diventare sposa però in un'altra maniera non nella cerimonia ma proprio nella vita quotidiana quindi dell'annerirsi i denti per dire tra le tante cose l'accudimento dei figli il trucco per arrivare poi alla morte togliamo il trucco che comunque è importante però c'è tutto ci sono i macro momenti effettivamente della vita e mi sembrava un perfetto inizio fare una specie di ma in realtà poteva essere chissà forse qualunque perché erano tutti meravigliosi però a livello di concretezza effettivamente il nero il nero con le notti di Edo popolate dagli yokai il nero della fuliggine quindi c'era tutto l'immaginario legato ai film di Miyazaki Hayao quindi i macro cross che sono le palline di fuliggine e poi c'era appunto il trucco giapponese tipico quindi con il volto bianco quindi il bianco il nero della dentatura che le donne tutti i giorni mi sono immaginato anche soltanto questo chissà quasi una casualità però direi che bianco, nero e grigio riescono a far partire la fascinazione di questo viaggio tra l'altro sono anche tre colori che fanno molto partire l'immaginario occidentale perché bianco, nero e grigio sono tre colori che consideriamo e non consideriamo se ti vesti di nero ti dicono ma tu non ti vesti colorato io mi sono vestita per credo 25 anni solo di nero e quindi ah ma no ma tu non ti vesti di un colore e tra l'altro c'è una tutta la parte iniziale che io ho trovato estremamente interessante perché nonostante un pochino di colori mi interessi ho capito leggendo il Giappone a colori quanto il grigio sia un colore fondamentale per il Giappone e quanto soprattutto un colore che per noi nella nostra immaginario percettivo e anche linguistico che è il grigio topo sia un colore invece che in Giappone è stata una rivoluzione l'ho scoperto leggendo Laura insieme al marrone tè cioè questi colori che sembrano a noi non sembrano quando dici una cosa ma di cosa era vestita di grigio topo e invece cioè io ho fatto un viaggio nei grigi nel range sul grigio topo sono diventata ma perché ho scoperto cose meravigliose cioè cose tipo i topi da compagnia in Giappone cioè tutto quanto un mondo che mi si è schiuso su quelli che invece per noi sono colori non so come dirti quasi marginali nonostante il nero e il bianco siano la somma la sottrazione del tutto anche a livello filosofico filosofico e anche fisico però appunto questo del grigio topo mi ha colpito particolarmente effettivamente il grigio topo che è il nezumi ro nezumi vuol dire proprio topo nel senso che peraltro più che grigio è proprio il color topo perché nezumi ro iro vuol dire colore nezumi è il topo quindi se vogliamo essere ancora più diciamo fiscali anzi linguisticamente proprio precisi è il color topo diciamo che tutto questo è proprio un lunghissimo viaggio tant'è che quando si parla di grigio in Giappone si parla soprattutto di grigio topo ma anche ad esempio del color cenere è stato proprio il passaggio più che solo il grigio topo è stato il passaggio tra ad esempio il grigio cenere e il grigio topo quindi come si è giunti che cosa si è privilegiato il grigio cenere era il grigio ecco il grigio quindi diciamo quello insomma quando uno pensa al grigio quel grigio era cenere soltanto che l'immaginario della cenere è diventato luttuoso è diventato doloroso per la gente di Edo perché chi un po' diciamo bazzica la storia del Giappone sa che veniva visitata annualmente da tantissimi incendi quindi voi dovete immaginare una città che cercava di strappare le case i beni le proprie attività a volte le proprie vite dal fuoco perché gli incendi erano e non incendi di piccolo come dire di piccola estensione ma incendi anche che bruciavano intere zone complete della città e ce n'erano almeno sette tra i sei e i sette ogni anno questo la cenere quindi ha cominciato a corrispondere nell'immaginario delle persone di Edo alla distruzione quindi alla perdita a incidenti appunto luttuosi di conseguenza si è arrivati a non nominarlo più è diventato l'innominato è diventato il colore innominato è diventato Iro quindi no questo che vi dicevo nei zoom Iro hanno tolto Hai Hai vuol dire cenere e Iro dire soltanto Iro voleva significare il grigio perché non lo si voleva dire perché i giapponesi credono da sempre nel potere delle parole sono pieni di giochi di parole non soltanto i libri ma proprio il linguaggio quotidiano io dico sempre di questa di questa immagine proprio immagine che mi ha colpito e lì ecco lì mi sembra che c'è stato anche lì un primo e un dopo rispetto all'ossessione che i giapponesi nutrono per le parole per cui andai in un santuario e tra gli omamori sapete che cosa sono gli omamori sono gli amuleti mamoru vuol dire proteggere quindi ci sono questi penso di averlo perché è attaccato alle chiavi però vabbè ora non lo tiro fuori perché devo tirare fuori tutte le altre cose prima ed è un amuleto e aveva la forma di una melanzana dici oddio ma che cosa c'entra il sacro il benagurante con la melanzana adesso magari chissà magari la melanzana no è perché nasu come termine poteva voler dire anche miglioramento divenire una progressione quindi qualcosa di buono che sarebbe potuto arrivare di conseguenza gli omamori hanno anche la forma di oggetti che uno dice ma come mai a volte non è che c'è una storia dietro non so un mito una leggenda c'era quella volta no semplicemente la parola un'altra lettura che ci sono tantissime omofonie nel giapponese semplicemente ecco arrivava non so dove sono partita ah sei partita benissimo sei andata avanti ancora meglio io come sempre ti ascolterei per altri dottore il topo sì ah i topi da compagnia facciamo una piccola ma non so mi ha colpito particolarmente questa cosa appunto il topo qua è sempre stata una cosa sì poi non so se avete già visto le slide un pochino ma c'è ad esempio un documento che ho trovato che era del non ricordo forse era del tra il 1600 e il 1800 perché era il periodo edo e quello è in cui dei bambini rincorrevano i topolini che si vendevano al santuario dove quindi si raccoglieva la merce diciamo stravagante preziosa perché effettivamente ho trovato un testo sempre di quel periodo di un allevatore di topolini che voleva anche lui era come me quindi con l'entusiasmo del condividere con tutti l'amore per questi topolini quindi descriveva il manto e quindi quando dici il color topo però effettivamente corrispondeva a un ventaglio anche lì di colori poi il topolino è divertente il topolino rispetto per dire al fuoco che bruciava le città era comunque una presenza più vicina una presenza anche aveva l'immagine insomma del prolificare insomma del riprodursi con grande velocità e facilità sì poi ad esempio c'era anche scusa mi stavo confedando perché non mi viene il nome di questa divinità c'era una divinità che come aiutanti ha i topolini e quindi anche questo vedi che ha anche delle incursioni nel sacro e quindi effettivamente il topolino il topo aveva un ottimo immaginario rispetto alla cenere comunque andava meglio e quindi da ha i ro si è cominciato a dire nezumi i ro quindi dal grigio cenere al color topo scusate io e il Giappone a colori è una serie di incursioni nella appunto cultura giapponese messe in relazione con tutta una serie di fonti e di constatazioni questo è un libro io quando ho esordito stasera ho detto un libro importante un libro veramente importante perché ti porta ti apre un sacco di porte letteralmente per cui sono grande fan di tutto questo e anche lettrice che se lo terrà molto vicino Laura Sappilo senti ma a proposito di libri libri da tenersi vicini tu avevi hai scritto qualche anno fa per Ennaudi un romanzo che si intitola Le vite nascoste dei colori come dialogano questi due libri perché secondo me è una cosa che vale la pena di raccontare se c'è qualcosa a raccontare poi puoi dirmi guarda non dialogano non hanno nulla a che fare l'uno con l'altro no è interessante perché ho fatto questo discorso ma all'inverso quando ho presentato Le vite nascoste dei colori questo perché doveva nascere prima il saggio quindi ho il mio editor di frontiere quindi saggistica letteraia e l'editor di narrativa e quindi ecco devo dire avevo un debito è nato prima il saggio e poi il libro ma effettivamente poi la materia ho sentito il bisogno ma proprio per questa fascinazione secondo me dovevo proprio entrare completamente proprio in questa meraviglia in questo trip dei colori per cui è diventato primo romanzo anche per capirlo di più per tenermelo più vicino per vedere che cosa può fare una persona con i colori nel caso di mio ad esempio che era la protagonista delle vite nascoste dei colori e aveva una percezione maggiorata quindi vedeva molti più colori di tutte le altre persone e dava anche dei nuovi nomi perché effettivamente se non li chiama nessuno ma tu li vedi perché non dare loro un nome e alla stessa maniera invece anzi al contrario Aoi che tra l'altro è azzurro azzurro verde anche lì c'è tutto un discorso lunghissimo in giapponese lui invece era dal tonico quindi era anche il gioco di vedere come questi due mondi lei che lavorava in un negozio è stato uno dei miei primi riferimenti pensando al saggio peraltro che era pigment a Tokyo perché è un luogo bellissimo in cui sono raccolti pigmenti di tutti i tipi e ci sono queste pareti infinite con boccettine con appunto polveri e dall'altra parte invece sono proprio non so materiali da cui poi vengono ricavati quei pigmenti carte diverse insomma è una specie di luogo in cui credo che tu veramente potresti chiuderti dentro e dire non uscirò più mai più datemi la chiave per chiudermi dentro ecco e la butterò me la inguierò a quel punto così non potrete entrare e quindi c'è stato però effettivamente sulla copertina ne parlavamo prima no? sulla copertina io non so se io non so se non credo di averlo messo nelle slide forse sì forse sì l'ho messo l'ho messo? bene i più attenti dicono che l'ho messo sono fiera di me stessa e la copertina delle vite nascosse dei colori se vogliamo era una specie di prequel di questo di questo libro se vuoi perché era il bianco era il bianco del kimono da sposa mi ricordo che Barbara tra l'altro Barbara Baldi ha fatto appunto la copertina sia del romanzo sia ha curato tutte le illustrazioni che sono meravigliose di questo libro veramente ecco lì è stata devo dire mi sembra di aver espresso da subito un desiderata su Barbara quindi mi sento anche coinvolta nella scelta che poi uno ovviamente propone ma non insomma ci sono tutti altri meccanismi che non è detto che insomma vadano magari sta lavorando ad altre cose non può però per me era proprio quella giusta proprio perché c'era questo fil blanche non so come dire che collegava il romanzo a questo a questo saggio letterario perché erano tutti bianchi io ricordo di averle telefonato che stavo era nelle mie mattine io faccio le passeggiate molto lunghe una mattina all'alba oppure la sera molto tardi le telefonai lei era una notturna quindi ci trovammo sulla stessa linea temporale del fuso orario e parlammo di questa copertina io proprio sognavo una donna con lo shiromuk che in questo libro effettivamente ha una grandissima parte perché racconto del mio matrimonio racconto proprio di questo ingresso quindi il colore del tatami ricordo le perché insomma ci sono quei giorni che secondo me vale la pena vivere perché poi volenti o non volenti diventano memoria ecco e le chiesi proprio come mia preghiera personale effettivamente se fosse possibile disegnare quindi colorare il kimono con le fantasie del kimono proprio come era stato il mio quindi effettivamente era stato il mio kimono ad essere stato disegnato quindi le fantasie erano quelle ma era tutto bianco quindi da lontano sembrava bianco ma da vicino non lo era anche perché il materiale poi determina anche già un bianco diverso la texture tutto quanto la riflessione della luce sui vari filati diversi quindi in effetti la domanda dopo che te l'avevi fatto era su Barbara Baldi come era stata scelta mi spiace figurati assolutamente hai già usaurito la domanda ma anche perché il tempo non è tantissimo ti faccio un'ultima domanda che non è una domanda perché parla di qualcosa di cui tu racconti all'inizio del Giappone a colori di un posto molto speciale che però tu dichiari effettivamente e dai un bello spoiler sul lavoro che stai facendo adesso questo posto si chiama l'ufficio postale alla deriva so che spenderai poche parole per raccontarlo però ha un ruolo fondamentale anche nel Giappone a colori e userei questo quest'ultima domanda per come catena di cui lasciamo la maglia aperta e che porterà poi credo le persone che sono qui stasera a venire a sentire quello che avrai da dire poi su questo prossimo lavoro tra un anno praticamente con grande calma questo è il mio grande motto con grande calma ci vediamo tra un anno creiamo creiamo dell'aspettativa come si dice nello spettacolo si ne parlo poco come dico perché poi un giorno non parlerò d'altro ci sarà un giorno in cui non parlerò d'altro che di questo di questo ufficio può stare alla deriva che effettivamente raccoglie devo dire un po' sia ecco i detriti ma fisicamente quindi anche se volete la spazzatura è uno di quei luoghi che si trovano tra le correnti e quindi non è stato come dire deciso questo nome a caso perché effettivamente l'ufficio può stare alla deriva perché tutte le cose lì arrivano volenti o nolenti tant'è che poi ci sono ad esempio dei dei volontari dei giovani ragazzi che ogni anno vanno lì a pulire le spiagge perché la popolazione è di mi sembra un paio di centinaia massimo di persone e hanno creato doveva essere un'installazione di pochi mesi durante la triennale che si tiene in quella zona non dico il nome perché insomma c'è una cacofonia notevole comunque questo ufficio può stare alla deriva è un museo e le persone durante il periodo di questa installazione quindi di questa mostra diciamo così potevano scrivere lettere lettere che erano indirizzate a persone che non avevano un indirizzo quindi idealmente se voi volete scrivere a qualcuno un qualcuno che però non potete raggiungere perché non ha un indirizzo perché non ha un numero di telefono perché non ha o perché non c'è più e questo potrebbe essere diciamo la soluzione più semplice quella più ovvia ma possono essere persone del passato con cui semplicemente non avete più avete perso i contatti possono essere persone del futuro possono essere suggestioni grandi le due che mi sembra non so se lo raccontate può darsi perché poi c'è sempre un libro scritto e un libro immaginato che è la maggior parte effettivamente due mi hanno colpito in particolar modo uno era di una donna che aveva incontrato un uomo su un treno una donna giapponese che aveva incontrato un uomo giapponese su un treno avevano scambiato delle parole una conversazione piacevole lui le aveva consegnato consegnato un biglietto da visita come a dire ci possiamo risentire ecco possiamo continuare questa comunicazione lei non lo contattò mai non si trova mai a contattarlo ma tenne il biglietto da visita per non mi ricordo quante decine di anni perché più lo racconto più perdo i dati ma varie decine di anni nel portafogli e scrisse una lettera che inviò poi all'ufficio postare alla deriva per parlare a questo uomo l'altro e mi commuove particolarmente quello di una mamma che invece scriveva all'inventore del phon e già la suggestione secondo me è abbastanza intuibile la suggestione del phon quindi l'inventore del phon perché lo rivoleva ringraziare ringraziare di quel tempo serale dato che comunque i giapponesi lo furo quindi il bagno entrano nel bagno nel bagno nel senso di vasca calda piena di acqua bollente la sera prima di andare a dormire quindi come se si togliessero di dosso tutto il giorno prima poi di caricarsi della notte e poi ricominciare questo viaggio le dava la possibilità di avere questo tempo dolce con il proprio bambino per cui gli asciugava i capelli e quello era un tempo tutto loro questo per dire quante storie raccoglie no? come detriti si fermano lì però sarà un romanzo e quindi non ne parliamo più grazie a tutti grazie a tutti